Numeri positivi per l'operazione Mare Sicuro 2016 conclusa nei giorni scorsi dagli uomini della direzione marittima Abruzzo e Molise lungo il tratto di mare che va da Martinsicuro in provincia di Teramo a Termoli in provincia di Campobasso fino alle isole Tremiti. Le vittime della scorsa estate per incidenti in mare sono state 34 di cui 16 per annegamento in meno rispetto ai 72 decessi del 2015. I controlli da Diporto sono stati 3.135 con 67 illeciti amministrativi riscontrati. Poi ci sono stati 25 soccorsi ad unità di Diporto rispetto ai 43 dello scorso anno. I controlli riguardanti il demanio marittimo sono stati 5.149 con 40 illeciti. I controlli sulla pesca e antinquinamento invece sono stati 5.411 con 94 illeciti sulle abbalnazioni, 67 sul Diporto, 31 sulla pesca, 16 sul codice della navigazione e 146 per altre infrazioni. Infine sono stati rilasciati ai Diportisti 355 bollini blu. I numeri dicono che sono sostanzialmente positivi nel senso che c'è una diminuzione per tutti quelli che sono i numeri negativi. Appunto mi riferisco non soltanto ai decessi ma anche al tipo di verbali che vengono a tipo di sanzione, al numero delle sanzioni. sta a significare che c'è una maggiore consapevolezza sicuramente da parte di chi va al mare o di chi va in mare con la barca per Diporto della necessità di andarci preparati, non andare così all'avventura, non sottovalutare i pericoli che il mare può costituire, può presentare.